Scuole delle aree interne senza alunni, il grido d'allarme arriva dalla CGL. Il termine per l'escrizione alle scuole di ogni ordine grado per l'anno scolastico 2019-2020 non è ancora scaduto e già si è alzato il grido d'allarme da parte di molte scuole delle aree interne della provincia dell'Aquila che si trovano di nuovo ad affrontare l'esiguità numerica di iscritti e iscritte con il rischio di non poter garantire adeguatamente il servizio scolastico. A parlare sono Miriam Del Biondo e Francesco Marrelli. La mancanza di popolazione scolastica con conseguente rischio di chiusura per le scuole di molti piccoli centri del territorio è ormai endemica, spiegano. Ogni anno ci porta a fare conti con una realtà socio-economica e culturale sempre più impoverita. I numeri ci ricordano che viviamo in un territorio abbandonato e in costante e continuo spopolamento. Quando i criteri e i numeri stabiliti per tutto il territorio nazionale si scontrano con la povertà demografica delle aree interne con fatica si riesce a garantire l'apertura di scuole sempre meno frequentate spesso situate in posti di una bellezza paesaggistica unica e sorprendente. La riduzione dei numeri, dicono Del Biondo e Marrelli, comporta la riduzione di organico. Avere sempre meno alunni e alunni vuol dire avere sempre meno insegnanti, sempre meno personaleata, sempre meno lavoro. E poi un riferimento anche alla politica. Non invitano le famiglie a rimanere, non invitano le famiglie a tornare, non invitano le famiglie a trasferirsi. La politica deve mettere in agenda invece azioni concrete che portino a ribaltare il paradigma e quindi a trasformare il problema delle aree interne in risorsa attraverso l'elaborazione di nuovi modelli di sviluppo fondati sulle potenzialità del territorio.